Le persone quando si mettono in testa qualcosa, quando hanno veramente voglia di fare qualcosa e ci credono, possono fare tutto. Infatti questo è quello che dico sempre anche ai giovani, che non si deve mai fare male di fronte a niente, che se hanno un sogno nella loro vita è quello che possono raggiungerlo e possono comunque farlo. Laura Peri ha coronato il suo sogno nel 2004 dopo aver abbandonato il proprio lavoro d'ufficio per dedicarsi anima e corpo all'allevamento di polli valdarnesi a Montevarchi. I miei nonni avevano questo terreno e già a suoi tempi allevavano questo tipo di pollo e anche se i miei genitori facevano tutt'altro lavoro, per me poi è rimasta una cosa nel cuore, un sogno da poter realizzare e quindi per i miei 30 anni precisi ho deciso di fare questo. Una scelta controcorrente quella di Laura che ha messo in primo piano il benessere dei suoi animali. I polli di Laura infatti vivono all'aperto, lontani dagli orrori degli allevamenti intensivi, liberi di scorrazzare in ampi spazi all'interno di un bosco e mangiando unicamente cibo preparato con cura senza OGM. L'animale deve avere tutti i suoi spazi, deve mangiare un po' quello che vuole, deve essere libero e quindi deve esprimersi al meglio. Diciamo che il benessere animale viene garantito in tutta la fase della filiera, sia a farsi da riproduttore, quindi dalla gallina, dall'uovo, dal pulcino, quindi dalla fase dell'allevamento e tutto anche nella fase successiva della macellazione, che viene fatta all'interno dell'azienda appunto per non avere stress, per non avere, diciamo, quelli che sono a volte, diciamo, le caratteristiche peggiori per gli animali, ma invece non gli creano nessuna difficoltà. L'empresa di Laura si estende per circa 10 ettari di terreno all'interno dei quali si trovano le casette per i volatili e da qualche anno gli orizzonti di Laura si sono allargati. Altre specie di volatili infatti sono andati a far compagnia ai polli. Abbiamo anche le faraone, la grigia comune e l'anatra muta, che sono degli animali comunque molto particolari, allevati sempre all'aperto, l'anatra ovviamente nell'oliveta perché avendo le gambine molto piccole altrimenti non riuscirebbe a camminare bene e le faraone invece sempre nel bosco. I polli di Laura oggi sono entrati nelle cucine di molti grandi chef. Diciamo che è una soddisfazione poter vedere che comunque quello in cui ho sempre creduto fino ad ora, in tutti questi anni, viene apprezzato in questo modo. Secondo me nella vita poi, o meglio, si nasce, in cui si decide se la cosa più importante è avere un profitto in denaro oppure avere una grande soddisfazione. Per me già avere una grande soddisfazione è tanto.